Musica Ciao a tutti e benvenuti ad Anteprima Cinema. Vediamo insieme le notizie di oggi. Dopo la sua presentazione in Italia, Shutter Island è pronto per il Festival di Berlino. Martin Scorsese ha parlato con entusiasmo del suo film a Roma, a Berlino ora potrà ritrovare consensi in sala. Shutter Island è tratto dall'omonimo thriller di Dennis Leanne, protagonista è Teddy, Leonardo DiCaprio, agente federale che si appresta all'isola di Shutter per indagare sulla scomparsa di Rechen. The Greatest Muppet Movie of All Time è il titolo del simpaticissimo film tratto dalla banda dai Muppets. Kermit, Miss Piggy, Gonzo e compagni sono in procinto di passare al cinema grazie a Walt Disney. I produttori cominceranno le riprese entro l'estate, i Muppets devono salvare il loro show da un editore senza scrupoli. Per farlo devono mettere in scena uno spettacolo che attiri l'attenzione di almeno 10 milioni di spettatori. Dopo Antichrist, Lars von Drier tornerà al cinema cercando di nuovo di cambiare genere. Nel prossimo film, Planet Melancolia si cimenterà con il genere catastrofico, la Terra in pericolo per una collisione con un altro pianeta. Planet Melancolia dispone di un budget di 7 milioni di dollari, cifra irrisoria, se adattata al Disaster Movie. Il cast è ancora da definire e per ora pare sia stata coinvolta a Penelope Cruz. E questo è tutto, vi lascio con il trailer di oggi. The 1957 Little League World Series è Angel Macias. He goes into the wind-up, and here's the pitch. Most kids can only dream of playing in the big game. But for nine boys, that dream, he's about to become real. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti